bentornati pro gamer eccoci qua mi scuso che nel primo video di questo gioco non non ha registrato l'audio per un problema spero che questa volta vada tutto bene intanto cominciamo allora campagna continua partita si è caduta ma il mio lavoro ha richiamato l'attenzione dei servizi segreti britannici erano sulle tracce di uno dei pupilli di hitler inviato in africa uno spietato sostenitore delle armi chimiche il generale franz valen il loro informatore vicino a valen è svanito così vogliono che io indaghi la mia prima fermata è l'oasi di gabberon un polo logistico dell'asse esploratori e ufficiali passano di cui e così le informazioni l'oscurità gioca a mio favore ci sono diversi ufficiali nell'area inizierò da qui la mia ricerca diverse alture vicino al lago sono perfette per piazzare il mio fucile se valen è stato qui ci saranno delle tracce e io le troverò bene eccoci qua allora l'armamento li lascerei quello che è vediamo l1 cosa da bravo equipaggiato vediamo la stessa cosa non è modificata si chiede li lascerei anche così kit medico ok inizia eccoci qua perché si può salvare anche spesso per salva spesso potreste trovarti impegnata non è ok scusate la mia voglia della solita gatta vediamoci un po di video ecco qua allora qui sembra non ci sia nessuno abbastanza rumore da coprire i miei spari e questo eliminato raccoglie corpo non portiamo qua giù andiamo C'è uno fusciale là, ma non ci arrivo a colpirlo. Vediamo adesso, ci saranno un mici qua. Proviamo a vedere. Non ho preso il tempo con gli spari. Quel cadavere ha qualcosa meglio di posizionarsi. Ok. 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 Via libera. Perfetto. Qui non si può sparare. Ah, il corpo non ho trovato. Qui non si può andare. Qui sopra. Vediamo la situazione. Assoldato. Lassù nella torretta non sembra nessuno. Vediamo. 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 Vediamo se riesco a farlo fuori. Se no mi sa che la missione è andata. Se non riesco a farlo fuori. C'è anche quello là. Però lì non si può fare niente. Ovviamente non ci arriviamo. Quello è morto. Vediamo. Vediamo se non ci sia altri nemici. qui. Ok. vediamo. Vediamo. Era quello che era venuto su di qui allora? qui. No. Direi di no. che. Oh sì. che. Oh sì. Oh sì. vediamo. Vediamo. Quello è andato. Ce ne saranno altri. Cosa devo perquisire? Vediamo. Dov'è? Dov'è? Non vedo. Mi dà? Ah. Eccolo là. È quello? Sì. Molto basso. Eccolo. Ora voglio per cui? Dobbiamo andare 4-4. Dove? Oh no. Ok. Dove? Eccolo. Ciò è. è qui no ok è lì eccolo qua le luci si salteranno? muah vediamo io dovevo perquisire qualcosa ah eccola là la stella ecco appunto sembra non ci sia nessuno generale maggiore coq come da vostri ordini vi allego una mappa degli incarichi assegnati agli ufficiali gabbro spero che sarà utile a voi e al generale valen capitano salvatore ok vediamo eliminato così scelte le chiavi e recupera le informazioni eh una è questa raccoglie corpo ok bisogna andare da quella parte allora facciamo un salva partita via scusate la tos uno le prende via Ecco qua Allora, vediamo Ce n'era un altro qua Passiamo di qua Ok Ok Io salverò molto spesso perché Sono Non so mai cosa aspetta eccetera Allora salverò molto spesso Ho visto uno qua Ma non so dove Eccolo Ce ne saranno altri Vediamo Non sappiamo se Ce ne sono degli altri qua Sento voci ma Sento voci Sento voci Sento voci Ok, allora qui non so cosa aspetta, facciamo salva partita, non so se poi salverò da un checkpoint, non ne ho la palle d'idea, vedremo. Vediamo, allora, ah ma sono sotto anche, ci saranno guardie, ecco nella 1. Ok, se vado mi vede, non posso sparare col fucile. Io andrei là, nell'angolo a destra, proviamo. No, non ci fa salire. Ok. E' là in quella fenda, e qua ci sarà sicuramente uno. Eccolo là, infatti. Me l'aspettavo. Colpo di chapette, per non dire culo, dico chapette ma fa lo stesso. Allora, vediamo se c'è un altro qua. Ok. Qua non c'è nessuno mi sembra, è che sono anche orbo senza occhiali poi io. Sto giocando, vediamo. Sto giocando, vediamo. Ecco qua. Nota dell'intelligence, carne da reclutamento. Mi fa piacere che la caddy Valen sia andato a tormentare gli altri avamposti. Tutte le volte che lo vedo perdiamo uomini in nome di stupidi ordini provenienti da Berlino. Allora, raccoglio il corpo. Lancia corpo. Piani premonto e passano... Ok, non ci interessa la room. Ok. Andiamo avanti. Io passerò da questa parte. Provo. Ce n'è uno là. Torrette non ne vedo. Qua c'è qualcuno. C'è un laghetto. Eccolo là uno. Uno. E due. Quale dei due prima? Otra cosa. Eccolo. Che 없어. Violetta. Consoniamo tutti gli oggetti. Vediamo se ne trovo uno. Allora... Vediamo qualcun altro. Mi sta tenda da un'altra parte. Vediamo. No, 136 metri e 225. Andiamo avanti. Qui non c'è nessuno. Si potrà passare? Dubito. No, infatti... Non si può passare né dall'acqua né da questo lato. Se mi metto prono dovrei passarci. Ok... Il passaggio l'abbiamo trovato. È un po' fatto male il movimento. Allora, vediamo. Adesso. Salva. Ok... Allora, prendi... 87 metri. Qui è inutile tentare, non ci andiamo. Infatti non torna indietro. E vediamo. Ci sarà sicuramente una guardia qui. Eccola laggiù. Uno. Vediamo. 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 Vai, che cosa? Eccola laggiù. Dovrei togliere di mezzo i cadaveri. Ma guardia, sta venendo da quella parte. Vediamo. Oh, oh, ce l'ho proprio qua. Sta venendo qua. No, si è fermata. Eccola lì. Arriverà? Ok. Ok. Allora. Fin qui ci siamo. Adesso 77 metri. Un altro guardia sicuramente sarà qua. Sono esposto su tutti i lati. Allora. Allora, vediamo. Qui sembra che ci sia qualcuno. Mi sembra. Ah, sì. Eccolo là. Più di uno. Più di uno. ebbene. Cosa è stato? Cavoli. Cinque. Non è niente. Niente da riferire. Uno se n'è andato. Otto colpi soli. Ma c'è pieno di gente lì. Allora, facciamo così. Che cos'è? Falso allarme. Qui non c'è nulla. Ok, lì sono passato. Ma l'obiettivo è là. Vediamo. Devo fare in maniera diversa. Ah no. L'obiettivo è là. Deve essere vicino. Vediamo. Vediamo. Ah, è questo l'obiettivo. No. 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 Smettersi al riparo. Cinque colpi soli. E' proprio lì di fronte. Non riesco a vederlo. Eccolo. Eccolo. il generale maggiore. Il generale maggiore inviato dal generale Valen è tutto indaffrato con uno dei tanti progetti fogli dei tedeschi. Ah, aspetta. Abbiamo fatto questo. E facciamo così. Una guardia da mettere. Vediamo dove sono le guardia. Una è là. Adesanta. mettiamo basti sette colpi soli della warrod continuate così uomini guardi qua ma sono tra un cazzo perché ecco lì 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 e ora bisogna tornare là ok prima conviene eliminare questa se no rischio di farmi vedere uno è qui dentro da dove si entra? ma che? mettetevi al riparo avete visto qualcosa? ok ci lascio qui pro gamer ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao